Siamo bloccati a Modane, non ce la facciamo avvenire fino a Borgone per la marcia popolare contro i progetti di tunnel tra Francia e Italia, tra Dalione e Torino. Ma vi porto questo messaggio con questo video. La France Insoumise è totalmente impegnata in Francia a creare le condizioni di impedire la costruzione e il progetto di tunnel. Infatti, se il Mélenchon vince a primavera sia le elezioni presidenziali che le elezioni politiche, il TAV non si farà e non ci sarà più avanti quel disastro, sia per l'ambiente che per la situazione delle risorse in acqua da Lione a Torino. Infatti, grazie all'associazione Vivre e Agire en Morienne, abbiamo saputo e siamo stati informati sia al Parlamento europeo che al Parlamento nazionale e anche alla nostra rete nazionale degli eletti comunali che alla fine il progetto detto di Lyon-Turin non è compatibile con le leggi sull'acqua in Francia, la charte dell'ambiente nel suo articolo 2 e articolo 5 e con le regole elementare legato alle leggi sull'acqua di protezione delle risorse in acqua dei paesi attraversati dal progetto TAV. Dunque, possiamo immaginare che fra poco la Commissione deontologia in sanità per l'ambiente a livello nazionale inizierà un'istruzione per bloccare il progetto. Siamo convinti che le leggi francesi sono adattate a questa interpretazione e dunque speriamo fra poco darvi delle notizie positive nel senso che non ci sarà più possibilità di andare avanti con i lavori, anche con i lavori provvisori di adesso perché già una ventina di sorgente sono in difficoltà per alimentare l'acqua nella Morienne. Ecco, allora siamo accanto a voi, mobilizzati anche in Francia, ne approfitto per dire che stiamo attenti alla situazione dell'Emilio che è stato estradato in Francia e ci organizzeremo per aiutarlo sicuramente ma anche aiutare la sua famiglia se ha bisogno di appoggio in Francia durante il suo processo. Ecco, salve, buona manifestazione, coraggio a tutti e ci vediamo fra poco in Italia sicuramente. Ecco, salve, buona manifestazione. Salve, buona manifestazione. Buona manifestazione. Buona manifestazione. Buona manifestazione.